Passaggio di consegne questa mattina allo stadio Mancini tra Enrico Fattoffi Dani e Mario Alessandro Russo. Il nuovo presidente della società Alma Juventus Fano si è presentato alla stampa con estrema umiltà. Russo Casertano di 43 anni, titolare di un'azienda che si occupa di digitalizzazione nel ramo della pubblica amministrazione, ha ripercorso il lavoro di questi ultimi mesi che hanno visto l'esclusione della squadra Granata dalla Serie C. Non siamo andati alla ricerca di un colpevole, ha dichiarato, e ci siamo subito rimboccati le maniche. Siamo rimasti un po' spiazzati perché ci sentivamo, lo possiamo dire, con un piede e mezzo ormai in Lega Pro. Non ci siamo fatti trovare impreparati. Penso che abbiamo allestito, ed è sotto gli occhi di tutti, un progetto che può in qualche modo disputare un campionato di vertice e poi ci auguriamo che a fine stagione, a fine anno, potremo festeggiare. Il neopresidente all'inizio aveva chiesto di diventare socio, poi invece ha accettato di rilevare la totalità delle quote. Il suo predecessore, infatti, ha rivelato che diverse persone si erano avvicinate alla società, ma Russo lo ha fatto con un senso di responsabilità. In conferenza, il 43enne ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato alla scelta del fanocalcio. Oltre alle giuste conoscenze, ha messo come questo sport sia un enorme veicolo pubblicitario per chi ha interessi imprenditoriali. Non c'è modo più sano e pulito, ha precisato, per farsi conoscere sulla piazza per la bontà del progetto, però per Russo è necessario perseguire anche altri obiettivi. Noi ci mettiamo il massimo, però il campo è l'unico e supremo giudice e come vogliamo vincere noi vogliono vincere almeno altre 4-5 squadre della categoria. Avere obiettivi non calcistici serve ad assicurare, dal mio punto di vista, un futuro a questa squadra, a questa società, per cui valorizzare i nostri ragazzi, su questo ho chiesto comprensione alla piazza, sostenerli, non fargli sentire il peso della maglia, perché è chiaro che per un giovane fanese può pesare di più rispetto a un under di un altro territorio, la maglia del fano, deve essere un orgoglio, non un peso e poi se riusciamo ci sarebbe anche tra gli obiettivi non calcistici quella di realizzare un campo in sintetico. In questo ho chiesto nella conferenza stampa di stamattina di starmi vicino all'amministrazione, siamo pronti a degli investimenti e cercheremo di valorizzare il settore giovanile anche tramite questo tipo di investimenti. Stiamo studiando, proseguito russo, sia il lancio della campagna abbonamenti che una presentazione della squadra a una rappresentanza di tifosi. L'avvio del campionato era previsto per domenica 19, ma dovrebbe slittare tutto di una settimana per le vicende legate al ripescaggio della San Benedettese. Si attendono ancora notizie ufficiali, intanto il sindaco Serie ha annunciato la programmazione di ulteriori interventi al Mancini per essere pronti al termine del campionato. Non tutto subito, ma un pezzo alla volta per rendere lo stadio sempre più adeguato e accogliente. Ha lanciato un appello anche alla partecipazione della cittadinanza. Sì, questo è un bel progetto, devo dire c'è grande responsabilità, lo hanno dimostrato con i fatti, la nuova dirigenza, con un impegno sia economico ma di passione. E allora se vogliamo continuare dobbiamo cercare di essere più uniti, accogliere e far sentire in casa la nuova proprietà perché ha un progetto e le cose funzionano se ci sono progetti lungimiranti. Questi continuano e funzionano se si sentono anche accolti e integrati nel contesto. L'invito che faccio è quello di essere vicini, magari facendo anche gli abbonamenti e poi sarà il campo a dare la sentenza perché comunque parliamo di sport e lo sport si misura con i risultati sul campo.